Qual è la cosa che in assoluto ci porta via più tempo nel momento in cui dobbiamo realizzare una foto o una serie di foto? Fermate il video, scrivetemi subito in un commento qual è secondo voi la parte più dispendiosa in termini di tempo dopodiché possiamo procedere con il resto del video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia a livello professionale, quindi conosco molto bene tutte le varie fasi e vi faccio il contenuto di oggi per dirvi quella che secondo me è la parte che porta via più tempo in assoluto e la parte su cui secondo me si potrebbe e si dovrebbe probabilmente nei prossimi anni andare a intervenire per snellire il flusso di lavoro. Ovviamente riflessioni fotografiche di questo tipo sul mio canale non mancano mai per cui il primo consiglio che vi do è quello di iscrivervi cliccando il bottone qui sotto e attivate anche la campanella per non perdervi le notifiche. Lasciate anche un like a questo video perché se ve lo lascio fare alla fine poi ve lo dimenticate. Molto bene ma torniamo a parlare di fotografia. Qual è la parte di tutto un flusso di lavoro fotografico che ci porta via più tempo? Vi do qualche indizio. Normalmente io ci metto, che ne so, mezz'ora a recarmi sulla location. Di solito non faccio sei ore di macchina per andare a fare una foto, ci metto mezz'ora. Quindi un'oretta, mezz'ora, andare e mezz'ora a tornare. Quanto ci metto a montare il set? A montare il set ci metto venti minuti di solito, una roba così. Non è che ci voglia, a meno di non fare dei set molto molto complessi, ma lì poi magari si va in studio e quindi ti danno una mano, ti fanno trovare le staffe già pronte. Insomma, montare il set il più delle volte non è una roba impossibile da fare, che si diventa matti. Vi confesso che ci sono state un paio di occasioni in cui magari ci ho messo tre ore ad allestire un set. E vi allego un video in card a questo riguardo perché, soprattutto magari quando si fotografano orologi, oggetti riflettenti, cose complicate, è una roba un po' empirica. Bisogna posizionare dei cartoncini, bisogna prendere tutte delle accortezze per gestire i riflessi sulle parti cromate, i riflessi sul vetro. Parlando di orologi nello specifico, ma vale anche per bottiglie di vetro, quindi che riflettono a tutto tondo la stanza. Esistono dei set complicati, non dico di no, però tre ore per allestire il set, insomma ci abbiamo messo tre ore e poi basta. E con questo tempo, quindi con un'ora di macchina e tre ore di allestimento set, ma è un'infinità tre ore di allestimento set, è proprio il caso estremo, ci siamo portati a casa lo shooting e magari poi facciamo mille foto. Quindi mille foto con cinque ore di lavoro va anche bene. Però poi che cosa succede quando torniamo in ufficio, a casa o in qualunque altro posto? La postproduzione. Abbiamo mille foto da postproduire, quindi prima cosa da fare è scaricarle tutte. Tempo. Scaricare le foto che pesano tanto, immagazzinarle nel computer, aprirle con un software dedicato che ci mette tempo ad aprirle perché pesa quella roba, e poi provini, selezioni e poi postproduzione, andare ad applicare un filtro, un preset per capire se funziona e poi farlo a cascata su tutte quante, andando a fare delle regolazioni fini su ciascuna perché le foto non sono tutte uguali e quindi anche se siamo stati bravi, abbiamo impostato il bilanciamento del bianco in camera, magari bisogna sistemare qualcosa. Quindi, a mio parere, la postproduzione è in assoluto la parte del procedimento che porta via più tempo. Questo ovviamente dipende perché c'è chi la postproduzione non la fa, c'è chi cerca di avere tutto giusto in camera, c'è chi non si rende conto di non avere tutto giusto in camera ma la post non la fa lo stesso perché è pigro, c'è chi scatta solo con lo smartphone, insomma esistono una miriade di casi. Io vi porto un po' la mia di esperienza. Nel momento in cui io torno a casa col mio pacchetto di foto, parte la fase di postproduzione e vi faccio l'esempio di un evento corporate che si è svolto di recente, quindi proprio fresco di questa esperienza. Io ho scattato, anzi due eventi corporate perché ne ho fatti due in questo modo, proprio di recente, questo mese e le modalità sono state queste. Io mi recco sul posto, evento di sera, anche andare elegante, vi faccio vedere una bellissima diapositiva. Quindi eventi belli per carità, prestigiosi, quindi sono contento di aver fatto queste esperienze. Mi sono recato con la mia strumentazione per gestire un flusso di lavoro durante un evento di sera. Quindi poca luce, difficoltà, ovviamente in un contesto del genere avere la possibilità di postprodurre il row può essere un vantaggio. Ma dobbiamo anche calcolare che a fronte di due ore di lavoro effettivo, perché io mi faccio due ore di evento, due, tre, un'ora e mezzo, quel che l'è, di fronte a tre ore di evento con magari un'ora di spostamento, quindi quattro ore di lavoro, io poi magari ho sette ore di postproduzione, cinque ore di postproduzione. Insomma, è decisamente la parte che mi porta via più tempo. E quindi durante, non tutti e due, ma durante uno di questi due eventi ho provato a lavorare in maniera diversa. Ho proprio fatto l'esperimento, ho provato a gestire differentemente i due eventi. Il risultato mi ha sbalordito, perché mentre in uno dei due eventi, quello diciamo dove ero più preoccupato, perché essendo più preoccupato ho detto qui bisogna farlo bene perché è cliente di un certo tipo, quindi ero più preoccupato, ho detto lavoriamo in modo tradizionale, scattiamo in raw in maniera tale da fare tutta la nostra postproduzione dopo. Viceversa nel secondo evento mi sono detto, ok, ho fatto il primo evento, è andato bene, mi sono reso conto delle criticità, tenete conto che stavamo scattando a ISO 6400, quindi ISO alti, quindi lì magari uno dice, poi ho bisogno di fare un po' di riduzione del rumore, perché qui, perché là, i colori, mica i colori. Insomma, ci possono essere i motivi per aver bisogno di fare della posta a livello professionale. Ok, non ho fatto niente di tutto questo la seconda volta, perché ho scattato direttamente in JPEG. Ho fatto delle prove prima, ovviamente ho fatto degli esperimenti a casa, non è che sono andato lì e ho detto io la butto lì o la va o la SPAC, no. Ho fatto delle prove a casa con le stesse impostazioni, quindi sapevo come sarebbero venute le immagini a livello di resa. Ho scattato l'intero shooting unicamente in JPEG, ho impostato la macchina, quindi sapevo di dover impostare il bilanciamento del bianco lì. Una volta arrivato lì, quello non potevo farlo a casa, perché il bilanciamento del bianco dipende dalla luce che c'è sul posto, quindi dal colore della luce che c'è durante l'evento vero e proprio, quindi quello l'ho impostato direttamente in loco. Tutto il resto l'ho impostato in macchina, per cui ho impostato, attenzione bene, ho impostato sRGB in macchina. Non volevo Adobe RGB, volevo un file già finito, volevo un file da poter consegnare al mio cliente senza doverlo toccare minimamente. Ho impostato in macchina il profilo colore portrait, quindi sapete che in macchina abbiamo standard, abbiamo neutrale, abbiamo landscape, abbiamo portrait. Ho impostato il profilo colore portrait. Ora, nel momento in cui noi scattiamo in RAW, ha poca importanza che cosa impostiamo per tutti questi parametri, perché tanto poi li possiamo cambiare. Una volta che li importiamo nel nostro computer e andiamo a postprodurli, li possiamo modificare. Quindi non ce ne frega niente di impostare queste cose. E io lo dico sempre, molte volte io non le imposto, perché tanto so già come postprodurrò le immagini dopo, e quindi non ho bisogno di impostarli. Poi lo faccio lo stesso, perché è buona abitudine, così vedo la resa, mi rendo conto di cosa sto facendo. Però a volte dico, sì, sto andando da quel cliente a fare quella roba, gliela faccio tutti i giovedì, anche se non imposto la macchina, fa niente, tanto so che torno a casa, applico il mio preset per quel cliente e il gioco è fatto. È una brutta abitudine, però capita. Nel momento però in cui scattiamo in JPEG, tutte queste cose vanno impostate, perché io sto scattando in JPEG per non doverlo fare dopo. Cioè non è più questione di dire, voglio avere la precisione dopo di andare a intervenire su ogni singolo file, su ogni singola immagine. No, io non voglio farla, quella parte. E quindi tutte queste cose le imposto in macchina. Le imposto in macchina perché così ci penserà la macchina a tirarmi fuori un file con già quelle caratteristiche, senza bisogno che io vada a toccacciarlo. Per cui imposto il bilanciamento del bianco corretto in macchina. Con la regolazione fine vado a scegliere esattamente i Kelvin che mi interessano. Vado a selezionare il profilo colore, che secondo me è migliore. Nel momento in cui si fa un evento si possono fare due cose, secondo me. Si può utilizzare il profilo standard, se vogliamo un'immagine più neutra possibile, o neutrale. Ma neutrale a me non piace perché tende al grigio, quindi poi di nuovo dovremmo post-produrlo e aumentare la saturazione. Questo non era quello che volevo. Siccome era un evento con tante persone, io dovevo fotografare le persone sostanzialmente. C'è sì, lo stand dietro, bello, figo i colori, però quelli come vengono vengono. L'incarnato era la cosa che mi interessava di più. Piccola parentesi, lavorare con Canon è altamente premiante da questo punto di vista perché l'incarnato di Canon è bello. È universalmente riconosciuto come una bella color science che ci dà un incarnato abbastanza giusto sempre. Quindi lavorare con Canon da questo punto di vista è una garanzia per me. Nel momento in cui imposto il profilo portrait, gli sto proprio dicendo guarda che sto fotografando persone. Quindi tirami fuori dei file dove l'incarnato vada bene. Si intende ovviamente l'incarnato di un bianco caucasico perché poi le macchine più o meno sono tarate su quello. A me va bene perché il 98% delle persone erano bianche caucasiche a questo evento. Quindi anzi forse anche la totalità. Quindi va bene così. Altre cose che a questo punto ho impostato sono tutti quegli automatismi che mi permettono di non dover toccare più la foto dopo. Quindi per esempio ho impostato la riduzione del rumore in camera. Quindi per esempio ho impostato le compensazioni della vignettatura, le compensazioni della distorsione del profilo lente. Tutte cose che la macchina è in grado di fare per me. Tutte cose che di solito io un po' snobbo sulla fotografia. Sul video invece le uso perché non dover processare il video in quella maniera è oro. Magari io adesso sto girando in 4K, imposto queste compensazioni in camera direttamente perché ci pensa la macchina e mi tira fuori un file che è già pronto. Per quanto riguarda queste cose, quindi la distorsione e la vignettatura sono già compensate in macchina. Questo è oro. Pensate se dovessi mettermi a farlo a computer e processare un file 4K gigante con un profilo colore enorme come il Cinema Gamut di Canon, dovrei processarlo tutto anche solo per dirgli di rimuovere la vignettatura. No, vi dico fallo in camera. Per la fotografia invece io di solito questa cosa la snobbo perché non voglio quella variabile baked in, quindi già fritta dentro nella mia fotografia, voglio poterla fare io per gestire fine tuning e tutto quanto. In un contesto corporate come questo mi sono proprio detto non la voglio fare questa cosa, io non voglio fare questo lavoro. Non lo voglio fare. 7 ore di post produzione per togliere la vignettatura e per regolare i toni della carnagione delle persone che ho fotografato che stavano mangiando e bevendo il prosecco col caviale, non lo voglio fare. Abbiate pazienza, non lo voglio fare. E quindi scattiamo in JPEG con tutte queste compensazioni attive. A questo punto vediamo che abbiamo un file che sostanzialmente è già pronto così. Ovviamente attenzione, questo comporta che ci vuole un po' di mano. Dobbiamo essere bravi nel nostro lavoro, ci vuole l'esperienza per poterlo fare, un giochino come questo. Questo mi rende molto efficace e molto efficiente, però devo essere molto attento, molto preciso, nel senso che sto scattando un evento che è irripetibile, è un po' come se fosse un matrimonio. Non vi sto dicendo di fare così ai matrimoni, eh. Lì no, lì per carità scattiamo in RAW perché è meglio, fidatevi di me. Però un evento del genere, se noi lo scattiamo con tutti i sacri crismi, quindi abbiamo cura che l'esposizione sia giusta, cosa che io faccio pressoché a ogni scatto è lavoro in manuale. Non me ne frega niente di usare gli automatismi ISO automatici, no, non me ne frega niente. Io scatto con reflex, guardo l'esposimetro, imparo la mia scena. Se c'è una situazione dove c'è più luce, parametri, sono questi, bene, memorizzati. Dilace meno luce, parametri, sono questi, memorizzati. Trick, rotellina, quando passo da una stanza all'altra giro una rotella e sono a posto, ma ho deciso io, non lascio decidere niente alla macchina. Voglio avere tutto sotto controllo perché devo avere tutto sotto controllo, soprattutto in un contesto come questo. Non ci sono modifiche a casa, qui è buona la prima. Il procedimento si è rivelato estremamente efficace, nel senso che ovviamente io vado lì, faccio uno scatto di prova, oh, lo scatto di prova l'ho sbagliato, ci sta, ho preso un'esposizione, l'ho presa sullo zero, e invece poi ho visto che dovevo magari sovresporre di un terzo di stop. Va bene, ho sbagliato lo scatto di prova, amen. Poi c'è l'altra stanza dove la luce è diversa, benissimo, vado nell'altra stanza e dico, qui dovrò sottoesporre di uno stop e mezzo perché c'è più luce, faccio lo scatto di prova, ho sbagliato di nuovo, dovevo sottoesporre solo di uno stop e non di uno stop e mezzo. Ok, adesso ho preso le misure e quindi so, impostazioni per la stanza 1, impostazioni per la stanza 2, a posto. E quindi io mi muovo da una stanza all'altra, erano tre in realtà, mi muovo da una stanza all'altra e so benissimo che parametri utilizzare e se mi giro per fare la stanza 2, trick, rotella, e so benissimo che devo usare l'altro parametro. E mi sono creato un settaggio di comfort dove so che posso girare una sola rotella per avere i parametri giusti in entrambe le stanze. Poi anche un po' di zucca, nel senso che se mi rendo conto e dico cavolo, quella situazione lì non l'avevo mai vista prima ed è esattamente intermedia, stavo facendo tre giri, faccio un giro e mezzo, ci vuole anche un po' di esperienza per gestire questa cosa, però avete capito di che cosa sto parlando. Sostanzialmente mi gestisco tutto lo shooting in JPEG e quindi me ne torno a casa con la bellezza di 789 foto, più o meno, ho quasi 800 foto che sono praticamente tutte giuste perché io ho anche questa abitudine che se mi rendo conto che una foto fa schifo mentre la sto scattando la cancello subito. Questo per due motivi, il primo è perché così quando arrivo a casa devo fare meno selezione, il secondo motivo è che risparmio spazio. I vantaggi di lavorare in questo modo sono molteplici secondo me. Da un lato ci permettono ovviamente di risparmiare tempo, io non ho fatto post produzione, presi JPEG, cliente, to, ciapa, queste sono le foto, fine, senza dirgli niente, non sono stato a spiegargli che avevo lavorato in questo modo, tanto il cliente non lo capisce. La riduzione del rumore funziona, nel senso che le immagini sono abbastanza pulite, sono pulite tanto quanto se le avessi post prodotte io in RAW e avessi fatto la riduzione del rumore, quindi va bene così, le macchine di oggi riescono a fare questa cosa. Il colore va bene, perché ho impostato un profilo che va bene per quello che dovevo fare, quindi i colori vanno bene. L'unica cosa da dover tenere sotto controllo è l'esposizione, faccio uno scatto, mi rendo conto che è sbagliato, lo devo rifare, lo devo rifare subito, perché non potrò correggerlo dopo. Questa è l'unica accortezza che dobbiamo prendere. Questa è la messa a fuoco, se uno scatto è fuori fuoco lo devo rifare, questo sarebbe stato così anche in RAW. Se riesco a gestire la cosa in questo modo, mi ritrovo con molto più tempo libero, perché ho impiegato il tempo dello shooting, ma non ho impiegato sette ore, mezza giornata, cinque ore, quattro ore, non ha importanza, non ho proprio impiegato tempo per post-produrre le immagini, perché erano già pronte. Trattandosi di una cosa non artistica, cioè non era un progetto dove mi capita di lavorare per progetti musicali per artisti magari che mi dicono guarda vorrei che mi scontornassi e che mi mettessi dietro le fiamme con un dragone con in bocca un joystick della Playstation. Dico ma scusa ma quella è una foto che ti sei fatto in cucina e sei in canottiera, sei sicuro? Dico sì 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 è una roba artistica mia. Va bene, sulle robe artistiche io non discuto. Mi chiedono delle cose strane di questo tipo e lì invece di avere una foto fatta in canottiera col cellulare sarebbe meglio avere un RAW per poter giocarsela un attimino. Nel caso invece di un evento corporate non ti chiederanno di mettergli dietro un dragone con un joystick della Playstation in bocca con le fiamme verdi e quindi non c'è bisogno di intervenire così tanto sul file. Ecco che lavorare in JPEG secondo me è molto giusto per un tipo di contesto come questo. Ovviamente la devi scattare giusta, cioè si torna un po' indietro, si torna a... è come lavorare non dico a pellicola ma quasi nel senso che non puoi sbagliare. La foto deve essere giusta perché non potrai correggerla dopo. Ora da un lato devo dire che questa cosa ovviamente mi è piaciuta tantissimo perché ho capito che un utilizzo può essere questo. Ho capito che non è vero che bisogna sempre scattare in RAW. Si scatta in RAW in certi contesti. Sto scattando la finale del Super Bowl e c'è il tiro finale. Ma è ovvio che scatto in RAW, non sono mica matto. Sto fotografando un matrimonio con Anna Francisco. Scatto in RAW per carità, se no... poi finisce malissimo. In certi casi è evidente che bisogna scattare in RAW ma dobbiamo essere noi a capirlo. In certi altri non è così necessario e anzi può essere controproducente. Può essere che ci stiamo complicando la vita e che otterremmo esattamente la stessa cosa. E lo sapete io questo come l'ho capito? L'ho capito grazie a due mesi di utilizzo di iPhone 15 Pro. Perché quel telefono mi ha proprio fatto capire che certe volte quello che ottieni facendo tutto in automatico è esattamente, esattamente quello che otterresti facendo tutti i processi e facendo tutto tu a mano. L'unica differenza è il tempo che ci hai messo. Perché ottieni esattamente la stessa cosa. Ed ecco che sono contento di questa esperienza e credo proprio che d'ora in poi gli eventi corporate magari non completamente ma in gran parte li farò in JPEG da adesso in avanti. Reputo che mi convenga un altro vantaggio è lo spazio di archiviazione. Cioè pesano molto di meno i JPEG quindi posso fare più foto. C'è anche da dire una cosa. Io le raffiche non le faccio quindi non è che faccio tanti file. Io ho una tecnica fotografica per questo tipo di cose. Prendete con le molle quello che vi dico. Non sto dicendo che in qualunque genere fotografico bisogna lavorare come vi dico io. Vi sto solo portando la mia esperienza. Lo so che se stiamo facendo a VFauna e stiamo prendendo un gheppio a volo è meglio fare le raffiche perché non ce la fai a beccarlo altrimenti. Lo so. In quel caso si fanno le raffiche perché è un movimento fulminio. Ma io sono a un evento. Il movimento fulminio è una signora che si mangia una tartina. Riesco a seguirla. Una signora che si mangia una tartina. O un sciuro di 70 anni che beve il prosecco. Riesco a seguirlo quel movimento. Quindi non ho problemi. Però la mia tecnica, il mio percorso mi ha portato a dire io guardo in oculare, inquadro una scena, vedo che cosa sta succedendo, entro nella testa di chi sto fotografando, lo osservo per 30 secondi prima di fare la foto. Capisco quando sta per fare così ed è una brutta foto così perché gli copre la faccia. Capisco quando sta per fare così che ride con una persona e lo fotografo in quel momento. Io scelgo il momento in cui fotografare una persona. Non faccio le raffiche per poi scegliere a casa. Questa è, a mio parere, una skill. È una tecnica. È una capacità. È un qualcosa che si impara. Non è che sono bravo io, non è che sono nato bravo. Mi sono applicato. Chiunque può applicarsi per imparare questa cosa. Bisogna riuscire a prendere il respiro della persona che stai fotografando. Capire quando sta per fare così perché sta gesticolando con gli amici. In quel momento non lo fotografi perché verrebbe mosso. Non lo fotografi in quel momento. Lo fotografi in un momento in cui ascolta una battuta e aspetta il momento in cui bisogna ridere e quindi è lì così che sta già sorridendo ma è fermo. Quindi capisci come si comporta il tuo soggetto e lo fotografi nel momento giusto. È tutta una serie di cose. È tutta una serie di competenze che dopo anni uno ha nel proprio bagaglio e quindi le usa e aiutano a lavorare come una volta perché questo è lavorare come quando c'era la pellicola. Io ho usato una reflex per fare questi due lavori e non ho usato mirrorless quindi non vedevo l'esposizione a monitor. Non sapevo com'era la mia foto fin quando non la scattavo. Ma io sapevo com'era perché ho una preparazione a monte quindi sapevo esattamente come veniva senza bisogno di vederla a monitor. E questa secondo me questo è il passo avanti questa è la cosa di cui sono contento e che vi porto oggi e che vi invito a provare. Fatemi sapere in un commento se la provate e se vi dà dei buoni risultati. La riflessione che vi porto oggi è questa. Secondo me lo step successivo per le fotocamere tutte è darci la possibilità di fare queste cose sul RAW in macchina. Ovvero la cosa che io mi aspetto dalla macchina fotografica del domani quindi le prossime generazioni di macchine fotografiche io la cosa che mi aspetto è di poter dire alla macchina che cosa voglio fare sul RAW e che la macchina mi tiri fuori il JPEG finito in macchina. Quindi per esempio io voglio mettere voglio mettere dei parametri voglio mettere il mio preset per la nitidezza sulla macchina io mi aspetto di poter fare il mio preset per la nitidezza a computer o anche in macchina però insomma mi aspetto di avere tutti i parametri di postproduzione del RAW in macchina e mi aspetto di poterli impostare e di poter dire alla macchina adesso scattiamo le foto e tu mi cacci giù i JPEG elaborati dal RAW come cavolo ti dico io quindi con questi esatti parametri quindi io non avrò più bisogno di tornare a casa e applicare i miei parametri alla foto lo dirò alla macchina e la macchina mi tirerà fuori un JPEG già processato professionalmente come io le ho detto di fare questa è la mia riflessione di oggi e questa è la cosa che vorrei dalle macchine fotografiche che andrò ad acquistare eventualmente nei prossimi anni fatemi sapere che cosa ne pensate vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché qui parliamo di fotografia tutto tondo video macchine fotografiche cineprese chi più ne ha più ne metta macchine del fumo ventole tutto quello che vi pare per cui iscrivetevi al canale così ne parliamo anche nei commenti vi ricordo che spesso e volentieri io vi rispondo con dei contenuti shorts verticali per cui se vi iscrivete adesso non rischiate di perdervi le risposte alle vostre domande qui sul canale io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.